16 luglio, mercoledì, bentrovati. I carabinieri di Montemarciano e Marzocca hanno arrestato in flagranza di reato un pluri pregiudicato tunisino di 30 anni per tentato furto in abitazione e porto illegale di arma da taglio. E sempre a Montemarciano i carabinieri hanno notificato un provvedimento cautelare con contestuale sospensione emesso dall'autorità giudiziaria ad un pregiudicato pugliese. Si chiama Salvatore Maselli, classe 1970, lì domiciliato. Reclusione per due mesi e multa per 200 euro per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Buone notizie per i cittadini danneggiati dall'alluvione. Il comune di Senigallia, infatti, in accordo con la Fondazione Caritas, ha liquidato la somma di 321 mila euro a favore del primo gruppo di famiglie colpite dall'alluvione dello scorso 3 maggio. A ciascuno dei 107 beneficiari che in base ai parametri reddituali, patrimoniali e familiari sono risultati in condizioni di maggior bisogno andrà un contributo di 3 mila euro. Nei giorni prossimi la procedura si completerà con la liquidazione anche del secondo e terzo gruppo di richiedenti ai quali verrà corrisposta la somma rispettivamente di 2 mila e mille euro. De Manio Marittimo, chilometro 278, il servizio. Il 18 luglio dalle 6 di sera alle 6 del mattino a Marzocca di Senigallia torna De Manio Marittimo, chilometro 278. La maratona notturna è ideata e curata da Cristiana Coglie e Pippo Ciorra. Incontri, conversazioni, installazioni, performance, video, progetti speciali, dirette web e un programma che si amplia via app, in realtà aumentata. Tutto in un frammento di spiaggia e in 12 ore dal tramonto all'alba. Il tema è legato sostanzialmente a quell'area demaniale ed è legato a quel tipo di spiaggia che è una spiaggia inattuale, una spiaggia antica per certi versi, ma che è apparentemente questo perché in realtà è una spiaggia ipermoderna, perché su quella spiaggia, in quel pezzo di spiaggia, ci sta uno dei luoghi più celebrati del mondo e di questo tempo, che è il ristorante di Cedroni. Quindi la provocazione concettuale era nata lì. Poi noi naturalmente siamo andati avanti e abbiamo sviluppato e concettualizzato meglio questa idea. Oggi questa iniziativa è due concorsi, ogni anno una meno un'ottantina di ospiti, talk in continuazione, ospiti che vengono praticamente da mezzo mondo e una progettualità che è vero che insiste sulle 12 ore, invece il punto di emergenza è quello, ma in realtà è un lavoro che dura un anno. Il lavoro che dura un anno è che è legato a una rivista, una rivista di architettura marchigiana che si chiama Mappe e quindi accoglie tutti i contenuti, anche tutte le solidità e tutte le attenzioni a questo territorio. Sono 12 ore, ma con una relazionalità, una connettività di carattere addirittura planetario. Tra le tante iniziative in queste 12 ore ne vorrei segnalare due, una che riguarda l'architettura, un contributo alla figura di Belluschi, un importante architetto e l'altra è l'open design che riguarda invece la possibilità di manovrare anche in casa con la realtà aumentata, il 3D, la progettazione e il design azienda per azienda. Questo in una realtà manifatturiera come quella marchigiana è un intreccio tra economia, cultura e territorio che cerchiamo sempre di più di perseguire. La riflessione su Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita occupa anche la serata speciale organizzata dall'associazione Arena Sferisterio a Macerata per i 50 anni della Lirica. Cinque grandi chef reinterpreteranno 50 prodotti tipici delle marche, tra loro anche Moreno Cedroni e Mauro Uliassi. Domenica 13 luglio presso il lago dell'aeroporto Jambor Carp di Falcolana Marittima si è svolta una gara di pesca sportiva il cui ricavato è stato donato dagli organizzatori ai cittadini alluvionati di Senigallia. La manifestazione ha voluto mettere insieme territorio, passione per la pesca e solidarietà. È tutto anche per oggi, grazie per averci seguito. Come sapete l'appuntamento è per domani.